Negli ultimi anni in Italia il caso più diffuso è stato l'omicidio. Tutti i giorni in altri giornali si sentono casi di omicidio e di violenza sulle donne. Le donne che vengono uccise sono quelle... Aspettate... Gli uomini ucciscono le donne per caso di gelosia o perché non vengono accettate da queste. Le donne vengono uccise brutalmente, accoltellate o buttate in qualche fiume. Poi un altro caso è quello della violenza sessuale. Molte ragazzini si fidano di ragazzi che vedono la prima volta, escono con loro e vengono accerchiati da uno o più di due e quindi violentati sessualmente. Poi lo stalking, che è anche quello, è un caso molto diffuso. Le donne non sanno come risolvere questa cosa. Denunciano gli uomini che le perseguitano ma alla fine quasi sempre non vengono fatti niente a loro. Questi uomini sanno sempre dove stanno e cosa fanno queste donne. Spero che questa cosa finisca presto.